La decisione dell'ISAC di Bassano di incaricare un avvocato di studiare la fattibilità di un cambio di natura giuridica, anticamera per alcuni di una privatizzazione dell'ente, ha causato una levata di scudi da parte della politica cittadina e dei sindacati. CGL, CISL e UIL rispondono in modo unitario alla delibera del CDA e contestano tanto il metodo quanto il merito. L'emmerino delle sigle finisce innanzitutto la modalità del percorso intrapreso senza un preventivo confronto e questo vale in teoria anche per la città e per l'amministrazione comunale. Per l'ennesima volta ci siamo trovati a sapere le cose come è successo in questi mesi sulle esternalizzazioni giustificate da decisioni urgenti e immediate a saperlo o da una delibera oppure dai media insomma ecco o dai lavoratori che allarmati ci hanno messaggiato, telefonato e chiesto che cosa stava succedendo. I rappresentanti dei lavoratori vogliono che sia fatta chiarezza su questa situazione e fanno notare come un percorso relativo alle IPAB sia già nell'agenda della regione. Quello che stupisce è anche la partenza di un tavolo tecnico in regione veneto per la modifica della legge regionale sulle IPAB per cui questo balza in avanti con uno studio di fattibilità e chiediamo una risposta concreta sia ai vertici della casa di riposo e anche alle istituzioni locali e chi vorrà rispondere alle nostre domande. In Soldoni il richiamo a un intervento è molto chiaro e riguarda l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin e il sindaco Elena Pavan. In ogni caso la faccenda si è appena messa in moto con lo stato di agitazione che è già stato proclamato ed è stata coinvolta immediatamente pure la prefettura di Vicenza. Noi abbiamo proceduto in questa mattinata a proclamare lo stato di agitazione dei dipendenti dell'ISAC e a chiedere una convocazione urgente al prefetto di Vicenza proprio per verificare la legittimità di queste intenzioni che ha espresso il comitato di amministrazione.